A me l'Italia mi piace tantissimo, mi piace il mangiare, è la cosa che mi piace di più. Sì, no, è incredibile. Ogni volta che faccio un po' di promo, sempre si posso andare a mangiare un po' il cibo di ogni paese, no? È incredibile. La gente, perché con gli spagnoli siamo molto simili, penso che siamo anche drammatiche, siamo emozionali, ma questo è meglio che essere tedeschi, no? È così, corretto. Terzo, che c'è il sole e che non è come Berlino, che non esce il sole, sì.